Buonasera a tutti ragazzi, io sono Lord e benvenuto in questo nuovo video. Parleremo di una cosa speciale del cinema che sarebbe stato il 31 maggio che ho preso. Adesso la faccio vedere, poi mi sembrava, aspetta. Ragazzi guardate, il papà sta facendo un buco nel cuore. Perfetto. E che ho detto? E appenderemo questo qui. E' il poster del cinema, ragazzi. Di Godzilla. Godzilla, come ho detto, Godzilla of the king of monsters. Significa la sigla. Due redems. Anche scritto in Japanese. Aspetta. Ragazzi portate il post è che non sto a pensare. Non va bene pensare. Che da un'altra soffertura. E' il mio figlio di tutto più. La Maya. In finito. Noi non sappia cosa si usa perché situare le sensi che ci sono. Questa è quella di tutti. Questa è la tua. Questa è la tua. Queesta. Questa è la tua. Questa è la tua. Questa è la tua. Questa è la tua. in questo specchio la scrittura è giapponese io non sono giapponese ma qui abbiamo dei cinesi ma non giapponese io ho chiesto a loro ma non ne capisco perché lingua giapponese quindi Godzilla è giapponese il video si può condividere beh ragazzi spero che questo video grazie per i 78 iscritti vi adoro raga quasi agli 80 grazie a tutti per il mio sopporto per fare la super chat dobbiamo arrivare ai 1000 iscritti per ora arriviamo agli 80 che lo desidero tanto grazie iscrivetevi al canale spero che questo video mi sia piaciuto ovviamente di Godzilla 2 king of ma... no meglio il titolo ah beh il titolo mi sto confondendo il titolo lo metterò in youtube mi sia piaciuto scrivete qui sotto i commenti che le pensate seguitemi su instagram e ci vediamo in un prossimo video bella raga ciao raga